5. La primavera 6. La primavera Sì 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 Cosa stai facendo? Cioè invece di studiare, ancora guarda Stokin B Ma non vedi che stavolta il film adesso? Lasciami un passo, su Testo va chiaro! Poi, non c'è questo testo, non c'è un altro tipo? Grazie a tutti! Corsi di lingua giapponese Takamori per tutti i livelli, da 5 anni, garanzia di professionalità e qualità. E poi abbiamo anche per i JLTT, per l'informazione contatta info.takamori.it